Smartphone, tablet, droni, piccoli elettrodomestici, accessori e giocattoli, tutti privi dei requisiti di legge in materia di sicurezza e tutti provenienti dalla Cina. Sono oltre 55.000 gli articoli sequestrati dalla Guardia di Finanza di Pescara nell'ambito di un'attività di contrasto alla contraffazione e salvaguardia della sicurezza e della salute dei consumatori. L'operazione è stata avviata soprattutto a seguito del monitoraggio da parte delle fiamme gialle, delle vendite online sulle piattaforme di e-commerce, controlli che hanno evidenziato la commercializzazione di prodotti anche nel territorio pescarese. Gli approfondimenti investigativi condotti dal nucleo di polizia tributaria su impulso della procura di Pescara hanno consentito di ricostruire l'intera filiera di commercializzazione degli articoli elettronici che ha portato fino in provincia di Roma, dove sono stati scoperti tre capannoni industriali facenti capo ad una società di proprietà cinese, in cui erano stoccati e pronti per la spedizione agli acquirenti online migliaia di prodotti di elettronica. Il controllo degli articoli ha fatto emergere l'assenza di ogni tipo di documentazione, sia doganale che fiscale, oltre alla mancanza di qualsiasi certificazione attestante requisiti di sicurezza previsti dalla normativa europea. 11.000 smartphone di ultima generazione, 500 tablet, 3.500 droni e 40.000 articoli di vario genere, tra cui sistemi di allarme, elettrodomestici, videocamere e giocattoli, per un valore complessivo superiore ai 3 milioni di euro, tutti sottoposti a sequestro per violazione del codice del consumo. Il proprietario dei tre magazzini, un cittadino cinese, è stato denunciato e rischia sanzioni fino a 25.000 euro, oltre alla confisca di quanto sequestrato.